Prima di far matematica un'ora di religione Nell'episodio precedente Veloce! È un ordine! Aggiusta il mio robot Ho detto aggiustelo! Come? Vieni qui che ti devo fare lo jumpscare Fermo Non picconare Passi ho zero di max Non picconare Ti è piaciuto il mio jumpscare? È un show di Fanta in Fox Vieni qui me lo ha detto Non puoi più fare i materiali Guai se li fai Neanche prendere le emozioni Butta le tutte E dammi le armi Come Michele? Darmi, darmi miele Come? Come darmi miele? Darmi miele Ho detto! Darmi miele! Bluuu Dammi miele Miraculous No, quello no Cos'è la sigla? Miraculous 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 No, è sì Vai! È un ordine No, 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 non mi ricordo più E allora la ripasserai Cos'è, una lezione? Sì, è un compito Per domani nuovo video Sarà la seconda puntata E vedremo se avrà studiato Dammi il tuo pompa Ho detto Dammi il tuo pompa Che ne ho due Allora cosa diverbe è il mio E lo butto C'è gente Spara Quante persone ci sono No, mi chiuso Ah, devo far proprio tutto io No, no, prendimi la scheda, burro Non fare l'ahentro Eh, ciao, ciao Tanto non è finito il video Ma quanto finirà? Domani Non me ne frega Non me ne sega niente E ora Ti devono vedere tutte le ragazze Perché non sei più fidanzato Non è vero Eh, ti ha lasciato Eh, sì Di tutti i tuoi segreti Adesso Non è vero Hai dei segreti in conto Eh, in conto Eh, sì, ci porto due euro Poi Lo sconto di 99 E non hai pagato 99 E mi hai dato solo 52 Ma vieni qua che chiamo la pulizia La pulizia La pulizia E non ve ne spiega niente Madonna La lobby Alleluia E mettiti la skin più brutta Che hai del gioco La default No E non volare E ora Vai Spremi le due Vai sul Wolverine E ti guardi il video Ma allora C'è un Wolverine Dice Oh, questo è stroppo Questo è gufo Con la massa da baseball Attiva a casa dei suoi pulpoteri E dice Ora basta I cieli ce ne vanno via Volano via I cieli Ecco Quello gatto si sente male E non me lo scelga Tutti i personaggi Tutti i personaggi E poi c'è Deadpool che fa il cuoricino E come lo fa? Eh C'è un'altra cazzina di 40 contro gatti Eh, almeno questa è la sua 40 contro gatti Sì, la verità è di due Sì, la verità è di due È senza speranza Ma no Quella Cari gatti, cari gatti Chi l'ha detto che non si può Cari gatti, cari gatti Chi l'ha detto che non si può Un cane che fa miau E un gatto che fa boh Cree Sono Wolverine o Mystic? Mystic Tu lo sai T'ho visto! Eh, dai Non mi potrai mai fregare Mettiti due cuffie come me Cosa ho? Una? No, ne hai quattro Quattro, quattro, quattro gatti Fare per sé E con resta di un Sei per sette No Sei per sette 42 Otto per otto Cinquanta No, aspetta Ah, ma ne sei! Voi c'è Sessanta Sessantaquattro Sessantaquattro Cento per cento Un milione Bravo Un milione per un milione Un miliardo Un miliardo per un miliardo Eh, chi ne sa? Un milione per un milione? un quadriglione poi c'è il quadruplo un quadruplo e poi c'è una uno zero vediamo se questa la fai chi da dove i numeri nostri sai che non me ne seguo niente sono io la maestro e allora dovresti saperlo allora 60 minuti mancano 60 minuti all'intervallo quindi bullo quanto fa emmanuel quanto fa bullo per fricks no bullo fix patatine di bullo dovresti saperlo non hai studiato allora 60 minuti 60 minuti sono già passate ma che me ne spiega niente non vi faccio fare l'intervallo quindi bullo un miliardo per un miliardo un miliardo un trilione un trilione per diviso due trilioni non si può fare perché due trilioni sono più grandi di un trilione bravissimo nove nove è quell'uno uno è quell'nove uno e sai cosa non fa l'intervallo giacomo buonasera va bene passiamo ai compiti ai compiti ai compiti sono scrivete youtube youtube e questo dovete scrivere imparare bene imparare bene imparare bene a parlare bene a fare tutto bene e soprattutto la matematica grazie tu bullo invece scrivi oggi tu scrivi bullo emmanuel scrivi religione non lo farò quindi oggi tu non farei religione ma farei matematica meno male meglio è meglio è però prima di far matematica un'ora di religione domani due cuffie compratele a domani ragazzi e spero che questo video vi sia piaciuto se c'è altri crisi tv io sono stato cattivissimo e ciao 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 ciao